buongiorno a tutti ben trovati bentornati nel nostro caffè nio abbiamo oggi con noi ancora una volta giacomo prati che saluto e che ringrazio molto caramente per aver accolto il nostro invito ciao giacomo grazie ciao a te prima di tutto matteo e poi a tutti bene allora oggi abbiamo un programma ambizioso devo dire che non è senza una certa trepidazione che mi accingo a introdurre questo argomento l'argomento di cui ci occuperemo oggi e devo dire che ci ho riflettuto a lungo perché oggi abbiamo deciso con giacomo prati di occuparci di un libro straordinario non solo della bibbia ma della letteratura mondiale cioè l'apocalisse di san giovanni parlare dell'apocalisse è qualcosa che impegna non solo e non tanto perché è un libro difficile oggettivamente ma anche perché io penso che l'apocalisse di giovanni sia il libro più interpretato più commentato più letto più studiato e più variamente letto e più variamente studiato in assoluto quindi si capisce che a meno di non essere proprio degli sprovveduti avvicinarsi a questo testo incute certamente qualche timore però insomma cerchiamo di fare come già abbiamo fatto per altri due libri difficili di cui ci siamo occupati con giacomo cioè il cantico dei cantici e lo splendido pinocchio di colloni diciamo che mi riservo la parte facile del lavoro cioè una contestualizzazione storica per lasciare poi la parte impegnativa e difficile a giacomo che ci guiderà alla scoperta o alla riscoperta di questo di questo libro biblico di cui voglio dirlo subito giacomo prati ha curato una bella traduzione che questo è un fatto che io trovo particolarmente interessante ha deciso di pubblicare contestualmente a una sua traduzione del cantico dei cantici nel volume che si intitola il ritorno della gloria cantico dei cantici rivelazione a giovanni pubblicata per i tipi del cerchio ebbene iniziamo a dire questo c'è un motivo per cui l'apocalisse è uno dei libri più letti e più interpretati delle scritture e il motivo è legato proprio al genere di appartenenza di questo di questo libro questo è un libro appunto apocalittico è una apocalisse dico una apocalisse perché in effetti si tratta di un vero e proprio genere letterario non è tra l'altro l'unica apocalisse abbiamo delle interessantissime apocalissi apocrife di matrice gnostica che non sono entrate nel canone scritturale e una cosa davvero interessante è che i caratteri essenziali del genere apocalittico noi li troviamo già in alcuni libri dell'antico testamento in particolare penso al libro di ezechiere al libro di daniele forse soprattutto che contengono delle sezioni che sono dichiaratamente evidentemente apocalittiche insomma è evidente che esiste una parentela tra il genere apocalittico e il genere profetico anche se non è semplicissimo distinguerli diciamo così in grosso il genere apocalittico si caratterizza soprattutto per un certo tipo di linguaggio di espediente linguistico che è il linguaggio emblematico o simbolico che come emerge dalla traduzione che io ho potuto leggere dell'apocalisse di giacomo prati ma poi come emergerà immagino anche nel discorso che lui ci presenterà assorbe un po' tutto quanto cioè prende il sopravvento questa preminenza del simbolo questa preminenza dell'emblema persino sulla struttura diegetica sulla possibilità di fare delle scansioni regolari in sequenze testuali il simbolo assorbe tutta l'intenzione dell'autore di un libro apocalittico ecco proprio per questo per questa caratteristica fondamentale i libri apocalittici sono libri che parlano a qualsiasi epoca della storia è proprio un elemento insito e connaturato nella nella natura proprio del linguaggio dei libri apocalittici ed è questa la ragione per cui l'apocalisse si è letta e si continuerà a leggere regolarmente e forse però giusto per calare diciamo così questo libro e questo genere anche nella storia della storia della produzione culturale umana non ha tutti i torti il biblista Paul Beauchamp quando afferma che la letteratura apocalittica nasce per aiutare a sopportare l'insopportabile è un dato di fatto direi abbastanza incontrovertibile che sia la produzione di testi apocalittici si colloca come il caso anche dell'apocalisse di Giovanni o attribuita a Giovanni perché poi ci sono tutti gli studi della scuola biblica di Gerusalemme che hanno dimostrato su solidissima base documentale che l'autore di questo testo non può essere almeno storicamente l'apostore ed evangelista Giovanni ma è un testo comunque che può essere riferito all'ambiente giovanneo diciamo così ecco dicevo l'apocalisse di Giovanni ha certamente alla base un sostrato storico che è particolarmente critico e tutto il simbolismo apocalittico dell'apocalisse di Giovanni si rispiega a partire da dei riferimenti che sono anche abbastanza ben circoscrivibili diciamo così alcuni simboli sono ormai dissodati in maniera irreversibile la bestia per esempio che storicamente è l'impero romano oppure la punizione che Dio consegna attraverso il libro all'agnello direi che storicamente è plausibilmente avvicinabile alla popolazione dei parti che avrebbero appunto invaso l'impero romano dopo averlo minacciato per per decenni ecco però diciamo così il rischio quando si maneggia del materiale come quello apocalittico è duplice da un lato quello di esercitare un'eccessiva cautela storicistica per cui poi si tradisce il testo apocalittico che è un testo emblematico un testo simbolico però c'è un altro rischio che non è meno insidioso quello cioè di come dire prendere la tangente e trasformare questo questo tipo di testi e questo testo in particolare in una sorta di caricatura che alla fine dei conti non è ciò che noi possiamo permetterci di fare a proposito della dell'ermeneutica appunto di questo di questo tipo di libri ecco dico questo perché mi pare che la nostra epoca che è un'epoca particolarmente difficile da diversi punti di vista è un'epoca in cui una certa lettura diciamo pure millenaristica dell'apocalisse ha ripreso ha ripreso slancio ha ripreso vigore e allora giacomo è secondo me è proprio il caso di ripartire dal metodo anche perché ti lancio subito una una suggestione nella apocalisse sono presenti ben 27 epiteti di cristo quindi io direi che un impianto cristologico di questo libro è innegabile questo secondo me è un elemento decisivo discriminante che ci consente di evitare quei due errori ermeneutici a cui alludevo prima e allora la domanda che ti faccio è proprio questa che cos'è l'apocalisse di giovanni e qual è secondo te il metodo esegetico che ci garantisce di più nel momento in cui ci accostiamo a questo testo si grazie matteo della sfida molto difficile allora io sono affezionato all'apocalisse per come detto tu quando è mancato mio padre 6 agosto 2012 nell'autunno di quell'anno la tradussi traducendo dal greco tre o quattro versetti al giorno ma mai fermando mi fu un esercizio anche di resistenza di costanza per me che sono in realtà molto in realtà pigo e caotico poi fu sci poi l'anno dopo l'anno dopo dopo 12 anni sto adesso scrivendo ti anticipo un saggio interpretazione che è il mio intento originario ma dissi non posso interpretare se non conosco il testo avevo di fronte a me una dozzina di biblie ogni traduzione era differente poi magari torniamo sul tema della traduzione cos'è l'apocalisse lo mio approccio è esquisitamente spirituale quindi senza nulla togliere l'importanza delle ricostruzioni storiche mi ricollego quello che hai detto tu ci sono due gravi rischi di deformazione ideologica nel interpretare le sacre scritture specialmente l'apocalisse proprio per questa sua ricchezza di immagini questa assoluta verticalità e densità incredibile l'apocalisse è la sintesi è il quinto vangelo è la sintesi di tutto l'antico di tutto il nuovo testamento basta prendere ad esempio le predizioni interlineari delle paroline per vedere come ogni riga ci sono due tre citazioni dell'antico del nuovo testamento quindi veramente il quinto vangelo io lo definisco il vangelo di cristo risorto cioè ci racconta cosa succede dopo l'ascensione di gesù cristo gli atti degli apostoli ci raccontano la pentecoste e poi san paolo ci racconta i primi passi della chiesa ma dal punto di vista di dio è dio stesso che si autorivela e dà a giovanni discepolo prediletto questo interessante la scelta di giovanni una privilegio incredibile attraverso di lui però condivide con tutti gli uomini questo privilegio cioè un messaggio dato specificamente ai servi di dio non che l'apocalisse non sia per tutti anche il vangelo per tutti però mentre il vangelo è più il cherigma verso chi non è ancora cristiano e certamente poi vale per tutti anche per i cristiani giorno dopo giorno l'apocalisse specificamente come tu hai già all'uso è un insegnamento sapienziale una dentro una visione profetica per confortare i cristiani nei momenti più difficili e infatti inizia con le lettere alle sette chiese che sono la chiesa di tutti i tempi ogni tempo della cristianità è la chiesa di efeso e la chiesa di la odicea contemporaneamente la chiesa di sardi anche se oggi ahimè come tu mi insegni sembra prevalere quella dimensione della peggior pratica ecclesiale cioè la chiesa di la odicea appunto la chiesa tiepida la chiesa orgogliosa che pensa di essere importante in realtà la più misera la più nuda la più cieca perché si è allontanata si è raffreddata anzi non è né fredda né calda e dio sta per vomitarla quindi il giudizio più severo ma io è giusto naturalmente quello verso la chiesa di la odicea però nello stesso tempo nelle sette lettere gesù da e questo non si ricorda mai purtroppo male male per chi predica il vangelo oggi laici o non laici non si ricorda mai le sette promesse che cristo fa alle sette chiese sono promesse straordinarie che si sintetizzano naturalmente nell'accesso al paradiso nell'accesso alla vita divina ma come sono scritte queste sette lettere veramente danno grande speranza danno conforto quindi l'apocalisse è la visione che dio dà di se stesso dei suoi mondi hai fatto bene a ricordare l'epocalisse pre cristiane bibliche bellissimo giulio brusi grande esperto ha scritto la città della luce i palazzi celesti che parla proprio di questo quindi l'apocalisse è la rivelazione se noi leggiamo le prime pagine del testo è straordinaria l'autorità e la forza perché il vangelo è il racconto degli apostoli chi è vissuto tre anni con gesù dell'incarnazione dell'inizio della predicazione di gesù però non sono tantissime le ipsissima verba le parole personali dirette di gesù invece nell'apocalisse entriamo nell'intimità di dio e di un dio totale direi di un cristo totale cioè quegli aspetti di gloria di maestà di pienezza di sapienza che erano un po più impliciti un po più nascosti nei vangeli perché lì dio si manifesta in modo dolce in modo mite no come qui vengono invece portati al cubo cioè espressi fortemente perché dio è anche giudice dio è anche sapienza dio è anche onnipotenza infatti quei 27 epiteli possiamo arrivare se prendiamo quelli un po più impliciti anche a 34 ho provato ma magari è sfuggito qualcuno ecco dio è pantocrato solo nell'apocalisse si dice che dio è onnipotente si fa capire ovviamente si capisce anche dai vangeli naturalmente però anche qua si dice che dio è logos si dice che dio è la stella lucente del mattino la radice di davide colui che scruta i reni e i cuori cioè c'è una delle definizioni veramente il primo e l'ultimo l'alfa e l'omega no infatti i primi cristiani usavano il crismon di costantino ma arricchito dall'alfa e dall'omega cosa è l'apocalisse dicevo i primi le prime parole se meditiamo sull'inizio e la fine dell'apocalisse che si corrispondono c'è la visione di cristo che ritorna è un'altra definizione trinitaria di dio straordinaria che c'è solo nell'apocalisse dio è colui che era che è e che sta venendo io l'ho tradotto siccome no è una orristo e quindi un passato indeterminato l'ho tradotto più precisamente come dio che con che è colui che continua ad essere cioè è dall'eternità ma continua ad essere colui che è nell'istante anche colui che sta tornando e perché siccome è già venuto uno dei temi forti dell'apocalisse è il ritorno cioè una grande manifestazione di dio anche come giustizia anche dell'ira di dio una purificazione del mondo e poi il regno dei mille anni e alla fine e alla fine la conclusione del tempo e la palingenesi e la nuova creazione con la gerusalemme celeste come inizia il testo rivelazione di gesù cristo a lui dio la consegna per far sapere ai suoi servi le cose che devono accadere presto quindi dio padre addirittura partiamo addirittura da dio padre da a gesù questa rivelazione lui la dà al suo angelo e suo angelo la dà a giovanni l'apocalisse si conclude con la ancora con la con la visione di cristo che torna la voce dello spirito della chiesa che concordamente supplicano vieni signore gesù a nome di tutti universalmente e cristo stesso che di nuovo attesta la verità insieme con giovanni di quello che ha dato giovanni per noi attraverso il suo angelo quindi c'è anche una dimensione angelica cosmica straordinaria dell'apocalisse dove come inizia l'apocalisse la lettera le sette lettere alle sette chiese che sono il catechismo di cristo giorno per giorno per tutti i tempi della dell'umanità e questo non vengono mai valorizzate sono straordinarie dicevo la chiesa dell'audicea che secondo me è quella che oggi domina e quella trattata peggio ma c'è anche l'immagine più commovente perché sempre nell'apocalisse gesù dice io castigo quelli che amo quindi castigo quale correzione d'amore castigo casto solo di rendere puro purificare col fuoco celeste c'è questa figura straordinaria che io quando visitai a 12 anni londra vidi questo quadro bellissimo tipo per fare lì adesso non ricordo l'autore che è presente nel cattedrale di san paolo dove c'è un cristo che bussa la porta con in mano una lampada e queste sono due immagini tratte proprio dalla settima lettera della chiesa dell'audicea dice gesù io sto alla porta e busso e busso chi mi apre entrerò da lui cenerò con lui e lui con me quindi questa è il dio che mette in comune con colui che l'accoglie tutta la sua vita e se stesso alla chiesa più degenerata come prassi e non a livello mistico a livello mistico sappiamo che la chiesa come sacramento è sempre santa quale pratica cristiana la chiesa più degenerata cristo ricorda la sua promessa più grande più intima e più commovente ma c'è un altro segno di questo quadro bellissimo la lampada nella gerusalemme celeste non ci sarà più sole la luna ma la gerusalemme celeste sa questa dimensione che unisce il cielo e terra in un nuovo cielo e terra e non c'è più neanche la distinzione fra cielo e terra e tutti gli esseri vivranno immersi in una luce che viene direttamente da dio e dall'agnello che è la lampada che è la lampada di dio quindi dopo le sette lettere abbiamo la visione della corte celeste nel capitolo quarto del trono di dio e sul dentro il trono di dio c'è l'agnello sgozzato ed eretto e risorto dice c'è cristo risorto nell'alto dei cedi alla destra del padre come dice il credo quindi è glorificato da tutti gli esseri da tutti gli angeli da tutti i santi questa visione poi compare dio che dà colui che non viene mai nominato colui che sede sul trono quindi dio padre dà il libro dei sette sigilli all'agnello questo ricorda è il passo evangelico dove cristo dice il padre mi ha dato tutto quindi è cristo adesso il discrimine fra bene e male fra luce tenebre e sulla grazia di cristo si sarà giudicati quindi è possiamo dire che è il vangelo al cubo l'apocalisse la sintesi straordinaria di tutta la sacra scrittura biblica e poi cristiana e fa un po paura secondo me perché proprio per questa sua potenza per questo suo parlare diretto per questa visione che non è mai non è non è importante l'aspetto predittivo conseguenziale importante aspetto visivo cioè sono visioni di sapienza visioni certe volte il testo va interpretato allegoricamente faccio un esempio quando gesù parla alle sette chiese sgrida gli angeli delle sette chiese chiaramente in questo caso angelo non è l'angelo con l'essere metafisico ma è probabilmente il vescovo di quella chiesa o la personificazione di chi sovrintende quelle chiese oggi diremmo l'alto clero ad esempio perché è colui che è responsabile della direzione spirituale delle comunità loro affidate quindi se c'è una pessima pratica cristiana la colpa è soprattutto del vertice dio punisce più serenamente chi sta più in alto quindi quel caso certamente allegorica ma ad esempio l'immagine della donna del dragone sono segni sono definiti dall'apocalisse quale segni come gli angeli con i sette flagelli e le sette coppe il segno non è un allegoria qualcosa di più reale cioè è una realtà che sviluppa anche un modello paradigmatico certamente la donna del dragone cioè la vergine maria con l'immagine della chiesa che deve partorire spiritualmente i figli di dio nelle anime che accolgono cristo e il dragone quale la radice spirituale del male sono presenti in tutte le epoche anche prima dell'incarnazione nella mente di dio e dopo la caduta angelica però assumono anche un modello paradigmatico no quindi un modello che ci indica il bene il male questa lotta terribile fa la stirpe di maria e la stirpe del nemico del nemico e questo non significa però che la donna del dragone deve essere interpretate come allegoria che fa evaporare il testo che svuota l'importanza della parola di dio no né la parola di dio può essere interpretata solo politicamente o storicamente quindi è parola di dio quindi il mio approccio è ermeneutico per cercare di portare la luce e la ricchezza spirituale straordinaria anche per immagini iconiche come i segni grandi segni e allo stesso tempo ovviamente ciascuno poi in relazione alla propria anima e i tempi che vive riceverà certamente una luce interpretativa anche nel riguardo il contesto in cui è ma non è quello l'elemento fondamentale non è quello lo stesso gesù dice solo dio padre conosce i tempi no e addirittura l'apocalisse viene da dio padre quindi perché ci sono delle profezie anche intese come predizioni per mostrare come il tempo umano sia incluso nell'eternità di dio quindi dio essendo onnipotente onniscente quando i nel quinto sigillo tutti i martiri supplicano a dio di intervenire anche come giudice e vendicare questo eccesso di afflizione di sofferenza innocente sui giusti sugli indifesi sono i martiri di tutti i tempi naturalmente perché di fronte a dio presente passato e futuro sono un unico istante assoluto quindi hai fatto bene tu a ricordare che l'essenza dell'apocalisse la più importante per tutti i tempi poi certamente ci sono profezie specifiche come quella sui due testimoni quelle sulle bestie anticristiche nello scatenamento finale che riguarderanno determinati periodi storici ma anche lì hanno un'importanza per tutti i tempi perché è un disvelamento di certe dinamiche del male di certi elementi profondi della di quella spiritualità che però è malvagia che è negativa quindi ci sono due apocalissi la principale è l'apocalisse di cristo cioè dio che rivela se stesso per far capire qualcosa della propria natura intima profonda no e poi c'è l'apocalisse del male quale disvelamento delle dinamiche profondi del male date da babilonia da queste immagini che non sono meno allegorie sono immagini paradigmatiche di dimensioni di dinamiche reali del male certamente la donna tu mi insegna anche un'origine storica no per israele e il culto di istar e cui quei culti che ehm di questa venere orientale no eh il toro e rabale questi culti che fecero concorrenza al monoteismo eh biblico in alcuni periodi in alcune zone come la samaria e la galilea e ad esempio faccio un esempio di quanto sia importante questo aspetto dell'autorivelazione di dio eh i quattro esseri viventi a un certo punto l'apocalisse quando eh Giovanni vede la visione del corteo celeste parla di quattro viventi letteralmente non c'è scritto essere quattro viventi che sono quasi dentro il trono di dio quindi sono gli esseri più vicini a dio e cosa dice Giovanni uno assomiglia al leone uno assomiglia al toro uno assomiglia all'aquia e uno assomiglia all'uomo certamente neppure queste sono allegorie infatti Giovanni dice assomiglia questa è una mediazione fra l'autorivelazione di dio e la capacità di accoglienza umana già Giovanni è un eletto discepolo più amato il più sapiente il più puro però è comunque una creatura umana quindi può ricevere una rivelazione così totale così grandiosa su dio fino a un certo punto fino a quando l'umanità può riceverla no? E quindi chiaramente Dio stesso si abbassa a livello di linguaggio eh mostrando un apparire che ha un senso però il leone chiaramente indica un carisma profondo della della natura divina la regalità la sovranità perché Dio è un impotente l'aquila è la sapienza l'oniscenza eh la il toro vi è tradotto bui in realtà proprio scritto toro indica il sacrificio ma indica anche la fecondità la potenza e l'uomo è interessante perché noi vediamo sempre l'uomo come una creatura creata da Dio certo ma se Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza vuol dire che l'essenza luminosa dell'umanità era già presente in Dio prima ancora della creazione dell'uomo questo è un pensiero spero non sia scorretto che mi fa venire in mente il fatto stesso che Dio ne rivelasse a Giovanni questi esseri così vicini a lui al suo trono i più vicini a Dio uno anche l'apparenza umana questo è straordinario mi sembra eh si debba meditare molto contemplare molto una bellezza ecco questo è un Vangelo attraverso la bellezza l'Apocalisse attraverso la luce e questo è un elemento molto importante senti mi riaggancio a una suggestione che tu hai lanciato e che realmente corrisponde a un'impressione che anch'io quando prendo in mano questo questo libro è come se davvero ci fossero due Apocalissi diverse dentro dentro l'Apocalisse nel senso che da una parte abbiamo la rappresentazione di scenari che sono terrestri anche se sempre osservati dall'alto dalle distanze uraniche diciamo così la terra è il regno del male dell'ingiustizia della sofferenza dall'altra parte c'è l'Apocalisse celeste che invece ci porta in una dimensione che è di una potenza e di una forza di suggestione davvero straordinaria è un'impressione corretta questa è correttissimo questo è uno degli aspetti di grande densità e ricchezza narrativa che rende anche più difficile le interpretazioni infatti il greco del Apocalisse non è difficile a livello sintattico sono frasi brevi difficile a livello lessicale perché già il greco è una lingua molto con infinite sfumature c'è qualche semitismo ebraismo ad esempio la frase dire il nome che non vuol dire nulla in greco ma in ebraico indica la glorificazione chi resterà fedele a me una delle promesse alle sette chiese Cristo dice io dirò il suo nome di fronte a Dio di fronte a Padre mio di fronte agli anni cioè lo glorifica eroico però il problema è proprio questo cioè non abbiamo una successione lineare nel racconto è come se Giovanni avesse scritto in fretta una sovrabbondanza di visioni come se le avesse avuto tutte insieme per una trasmissione appunto superiore soprannaturale ma poi nello scrivere abbia dovuto ovviamente dipanare perché il linguaggio è fatto di una successione di un'articolazione e come dici tu ci sono delle visioni celeste che semplicemente rivelano cosa accade sempre nell'eternità gli angeli che dicono santo 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 quindi gli esseri più vicini al trono di Dio che adorano Dio l'agnello questo è uno squarcio sulla gloria dell'eternità che attraversa qualunque tempo umano poi c'è alcuni squarcio sul tempo umano visto dal cielo dal punto di vista di Dio quindi non secondo i tempi umani o i modi umani ad esempio ci sono certe anticipazioni prima si annuncia un trionfo in cielo esempio Michele sopra il dragone e dopo però il dragone è scacciato sulla terra cioè alcune cose che vengono in cielo hanno un corrispettivo successivo cioè come un tempo di manifestazione successivamente sulla terra oppure coeve ma all'opposto cioè gloria in cielo ma castigli sulla terra o difficoltà sulla terra ma anche la fisica ci aiuta ci sono otto minuti prima che la luce del sole giunga alla terra quindi due cose istantanee hanno comunque una differenza di tempi di manifestazione anche nel mondo fisico figuriamoci nel rapporto fra soprannaturale e naturale ma Pietro nella sua concretezza nelle sue lettere ci ricorda un dato già comparso nell'articolo testamento cioè cosa si dice un giorno in cielo corrisponde a mille anni sulla terra quindi anche dentro l'eternità c'è una ritmica non è un'eternità fissa statica rigida perché dio è vivo questo è un bellissimo paradosso no cioè dentro l'eternità c'è un ritmo musicale c'è molta musicalità nell'apocalisse però è differente da quello terreno che è molto più lento questo non significa che non ci sia un'armonia un rapporto possiamo dire che l'apocalisse è un po la storia dell'intreccio anche fra eternità e tempo è difficile per noi interpretarla perché abbiamo appunto un sovrapporsi a ondate a flussi un intrecciarsi fra visioni celesti quindi dio raccontato da dio stesso il cielo raccontato dentro cielo visioni della terra dal punto di vista del cielo e visioni invece dalla terra ma riferiti a dio e quindi questo è molto complesso ad esempio babilonia prima si annuncia la caduta di babilonia poi la si mostra quando già caduta non si fa vedere direttamente la punizione perché c'è quasi un pudore nel mostrare l'ira di dio e qui c'è una scena ecco le immagini dell'apocalisse alcune volte sono veramente di una chiarezza mista densità straordinaria a proposito dei sette castighi che sono la settima inclusi nella settima tromba quando arriva la settima tromba si annuncia già un trionfo in cielo che non si è ancora realizzato in terra si realizza alla distruzione di babilonia che avviene alla settima tromba la settima coppa scusa la settima coppa dell'ira di dio ecco quando partono questi angeli escono dal tempio celeste di dio quindi c'è proprio una definizione architettonica di questa dimensione ontologica che non è solo allegorica ma viene descritta come tempio quindi la tenda della testimonianza l'arca dell'alleanza che costruisce mosei sono fatti su un modello celeste e l'apocalisse squarcia il velo su questo modello celeste confermateci che esiste esiste un arca dell'alleanza in cielo fatta da dio e esiste una tenda della testimonianza allora da questo tempio celeste escono i sette angeli che possono essere probabilmente i sette arcangeli che stanno sempre di fronte al trono di dio della tradizione con sette colpi flagello e poi un colpo che poi sono le sette coppie cosa si dice che in quel momento il tempio di dio resta vuoto nessuno può entrarci neanche gli angeli più superiori e resta più vuoto per gli esseri ma pieno del fumo dell'ira di dio straordinaria cioè dio resta solo per un momento dio resta solo con la sua giustizia quindi la gloria diventa assume l'aspetto di un fumo teofanico che l'ira di dio e in quel momento avviene i castigli contro coloro che hanno adorato la bestia anticristi che sono fatti marchiare e distruggono babilonia e questo è molto interessante come la potenza d'immagine dell'apocalisse è veramente qualcosa di straordinario su cui immagini semplicemente anche solo da contemplare da meditare c'è un aiuto spirituale anche solo in questo c'è una concretezza c'è una fisicità quindi attenzione a interpretare troppo allegoricamente da confondere il segno con l'allegoria il segno è un qualcosa di che rimanda a una realtà teandrica di solito celeste e terrena allo stesso tempo ma è anche un modello paradigmatico quindi non va inteso alla lettera ma nemmeno in modo eccessivamente astratto altrimenti perdiamo la consistenza e la potenza anche di questa parola che è veramente straordinaria dalle tue riflessioni emerge secondo me chiaramente il fatto che uno degli degli stimoli più importanti da cui parte poi tutta la tua penetrazione del testo è proprio il fatto di aver maneggiato la sostanza linguistica dell'apocalisse cioè tu l'hai tradotta l'apocalisse e inevitabilmente chi si accosta ad un testo per tradurlo ha uno sguardo oltre che un'intenzione differente rispetto a chi apre il libro lo legge magari anche in testo originale ma senza ecco quello quello sforzo di dover trasferire da un sistema linguistico all'altro allora ti chiedo vuoi offrirci qualche riflessione legata appunto alla tua esperienza di traduzione dell'apocalisse sì io di solito faccio sempre due esempi semplici che adesso ricordo per vedere quanto cambi da una traduzione più aderente alla lettera ad esempio nella mia traduzione non ho messo la punteggiatura se non quando le poche volte che compare nel testo greco il testo greco antico usa poco la punteggiatura non ho messo sovrastrutture di capitoli o paragrafi perché non che siano sbagliate ma è appunto una sovrastruttura quindi spezza questo flusso continuo e organico che quello del del testo visionario di giovanni no profetico e mistico il cavallo ad esempio i primi quattro sigilli no i cosiddetti cavalieri dell'apocalisse ecco in realtà il testo non dice cavalieri dice appare ed ecco un cavallo sul quale c'è uno che lo cavalca quindi appare poi sembra una sua natura ma e poi c'è tutta una serie di congiunzioni spesso di elenchi e e caica che vengono tolti perché sembrano noiosi invece li ottenuti perché danno una ritmica no l'elenco delle merci che mercanteggia in modo di saccante babilonia ci sono merci di lusso i profumi la seta c'è il bisso la porpora le resine legni preziosi le spezie poi straordinaria l'icasticità anche delle due due termini finali psiche e somata quindi le vite e corpi tornando ecco al cavaliere dell'apocalisse il secondo ed ecco ed ecco poi è un cavallo non è rosso è color fuoco proprio rosso è già una domesticare la traduzione e cambia cambia e non ha in mano colui che lo cavalca non ha in mano una spada in mano un macaira cioè un coltello ricurvo è quello usato ritualmente per sgozzare gli agnelli nel tempio di gerusalemme quindi quel cavaliere non indica non è una semplice allegoria della guerra qualcosa di più profondo indica una fase di purificazione indica il fatto che se noi non accettiamo il sacrificio di cristo e non ci mettiamo in un rapporto religioso e quindi sacrificale con cristo che è un sacrificio incruento per lui è stato cruento per noi no è spirituale e allora l'uomo si riduce poi a sgozzarsi a vicenda se noi non accettiamo l'agnale sgozzato che si è lasciato sgozzare per noi questo è il grande insegnamento spirituale l'uomo allora poi ritorna ai sacrifici umani senza rendersene conto cioè a sfruttarsi gli uni con gli altri e a schiavizzarsi gli uni con gli altri lo farei proprio anche le guerre la guerra è una conseguenza di questo rifiuto di cristo uguale sacrificio non è la causa principale o il male principale è una conseguenza e anche la guerra nella logica apocalittica non è grave perché muoiono le vite fisiche anche certamente ma perché muoiono magari prima della volontà di dio raggiungere la loro conclusione naturale finale ma perché la guerra mette in difficoltà lo stato spirituale dell'anima perché in un momento di carestia o bisogno o minaccia o violenza chiaramente la tentazione poi risponde con altrettanta violenza o sopraffazione e quindi perdersi per la sovrabbordanza del male il cavaliere nero che in realtà cavaliere scuro viene tradotto ha in mano una bilancia cioè compare un cavallo e quello che sopra il cavallo ha in mano una bilancia più precisamente il testo ha in mano un gioco di bilancia questa è una sommatura straordinaria perché il gioco ricorda la croce cioè il gioco della sequela di cristo se imitate me che sono umili prendete il vostro gioco su di voi e seguitemi che sono unite umili di cuore il mio gioco leggero dice cristo e quindi ci sono una risonanza musicale sinfonica straordinaria sia interna all'apocalisse che fra l'apocalisse i quattro vangeli che fra l'apocalisse tutto l'antico nuovo testamento no questo è un qualcosa che a mio parere quasi prova quasi prova a livello proprio logico tecnico linguistico il fatto che questo è un libro sacro ispirato perché un uomo molto difficilmente a mio parere per quanto sapiente o saggio come giovanni ma giovanni è un giovanni perseguitato in esilio a patmos quindi non è un giovanni tranquillo con il capo di una scuola di esegesi no ecco c'è anche questo da considerare è un uomo che abbia potuto scientemente da solo inventarsi delle immagini così straordinarie che riguardano dio no ai limiti dell'audacia oltre l'audacia e così affina un congegno così perfetto e raffinato nelle risonanze quindi insomma mi sembrerebbe molto difficile è vero che c'è una tradizione profetica ed è utile per capire alcuni aspetti prima e dopo l'apocalisse ma è anche vero che c'è una novità straordinaria linguistica anche come c'è nei vangeli così è anche una novità è una profezia diversa dalle altre perché va veramente a un livello di profondità di creatività di vivacità proprio di vitalità incredibile speciale no da un senso di totalità ma anche di precisione veramente pazzesco ogni angelo ha una funzione c'è comunque un'armonia pure in questi continui passaggi fa terra e cielo o fra moduli di linguaggio c'è il cantico angelico la celebra il canto dei santi poi la profezia specifica poi la descrizione del male poi si torna un trionfo in cielo però tutto da un senso di organicità di unità di armonia non di carlos è straordinario sì questo è vero però al tempo stesso non possiamo negare che la sequenzialità del testo soprattutto del testo narrativo a cui forse siamo abituati non solo in riferimento alla letteratura moderna ma anche alla letteratura antica qui è messo alla prova dalla preponderanza del simbolo cioè l'abbiamo già detto questa è proprio una delle caratteristiche costitutive del genere apocalittico e in particolare ti vorrei sollecitare su quello che a me sembra il simbolismo portante di tutto il libro cioè il simbolismo numerico del numero 7 con i 5 settenari che scandiscono tutta la trama della dell'apocalisse sì concordo con te sono 5 in modo preciso sono quattro cioè le sette lette i sette sigili e sette trombe su tutte coppe ma anche i segni in effetti segni principali sono sono sette un po più difficile distinguere fra segno e semplici visioni celeste ma il segno certamente non è solo la donna il dragone o le sette o gli angeli delle sette copie ma certamente anche l'angelo col piccol libro la canna col piccolo libro la canna che da un libro e che giovanni inghiotta è un segno sicuramente cioè indica un'azione ma indica anche un modello una matrice in questo caso è il ministero profetico di giovanni la parola che si fa carne quindi giovanni viene investito di una parte riservata della rivelazione che sono indicata dei sette tuoni e inghiottendo questo piccolo libro portato da un angelo vuol dire che deve esercitare un ministero profetico questo si collega un po allo stesso vangelo di giovanni alla fine quando pietro viene confermato nel suo ministero di governo della chiesa ma giovanni permane in un ministero parallelo e autonomo e complementare di possiamo dire profezia sapienza e ascolto a cui secondo me si possono collegare di più le chiese orientali ad esempio il sette è importantissimo come nella prima visione ci sono due visioni iniziali no quella di cristo che appare da risotto che appare a giovanni giorno di domenica in isola di patmos e appare come un cristo trasfigurato glorioso col volto splendente come il sole con i piedi come bronzo fiammante candido quindi è un cristo glorioso trasfigurato completamente divinizato nella sua umanità e appare quale padrone della chiesa l'apocalisse è l'unico testo dove dio viene chiamato padrone non chius che signore ma despota nel quinto sigillo si dice tu che sei despota il padrone di tutto e questa è una cosa che un po i cristiani hanno perso la mente l'islam ha conservato c'è il senso dell'assoluta e anche l'ebraismo in un certo punto di vista è il senso dell'assoluta trascendenza di cristo di dio cioè il fatto che dio si è incarnato non significa che dio si sia depotenziato sant'agostino lo ricorda dio con l'incarnazione ha aggiunto come ci mettiamo un vestito scusa la metafora bassa ma dio ha aggiunto diciamo una natura carnale umana una un'anima e un corpo umano a una persona divina che è eterna e non è e rimane per natura per definizione e dogma immutabile quindi come appare il cristo poi come colui che ha in mano le sette i sette candelabili e sette stelle cioè come il padrone delle chiese della chiese poi ci sono dei sub misteri diciamo degli enigmi che questi a me secondo me sono irrisolvibili solo pochi eletti potrebbe potranno hanno già potuto risolverli ma non è dato non ci giunta attestazione cioè perché si faccia riferimento a sette chiese dell'asia che poi sono asia minore no ma perché beh ci sono dei dati scritturali non so la sapienza quale dio si è costruita una casa no su sette fondamenti gli sette spiriti anche l'apocalisse i sette angeli di fronte a dio sette spiriti di dio ecco cristo appare anche come colui che detiene i sette spiriti di dio che vagano nel mondo sovegliare il mondo il cosmo quindi certamente il sette ha una ricorrenza straordinaria strutturale possiamo dire nell'apocalisse l'occhio se tuplice di dio c'è l'antico testamento però ci sono poi questi enigmi come mai queste chiese dell'asia alcune possiamo capirlo efeso è luogo dove secondo tradizione ha vissuto poi maria giovanni pergamo era uno dei più efeso anche sono luoghi dove c'era il tempio di artemide e luoghi sacri già prima di cristo potenti no luoghi potenti come pergamo l'altare di zerosa pergamo pergamo è un po l'erede della sacralità di ilio no la grande madre vicino pergamo quindi ci sono qualche ipotesi possiamo accennare ma in realtà non lo sappiamo come non sappiamo cosa dicono questi sette tuoni a giovanni poi ci sono alcune volte proprio delle sfide cioè dio sfida in enigma uomo quando parla del famoso 666 che in realtà è scritto 666 ecco qui abbiamo un'interpretazione stupida superficiale di massa che è da parte della gente che è esattamente l'opposto del senso di queste tre cifre non è il numero della destra sono tre cifre a cui dio sfida i suoi servi a calcolare da queste tre cifre il numero che corrisponde al nome di una persona che sarà l'anticristo finale quindi 666 non è il simbolo del nemico è un aiuto che dio dà contro l'anticristo quindi quelli che si mettono le felpe con sito 666 pensando di fare i figli e di essere amici di una visione positiva del diavolo o di essere comunque ribelli in realtà stanno dicendo sono servo di cristo il combatto contro l'anticristo però evidentemente non sono eletti infatti non sanno ricavare il nome e le vere domande da chiederci di fronte a questa a questo non è qualche è non è l'identificazione questa quella aspetterà l'eletto che lo identifica e perché io ho voluto darci in modo in futuro perché secondo me l'anticristo finale è ancora lontano mi pare interessa meno questo aspetto di attualizzazione perché ha voluto darci il modo di identificare a un certo punto della storia umana chi è l'anticristo finale come persona perché a un certo punto si capisce nella narrazione no quella più più storica che c'è una narrazione storica le due bestie i due testimoni è una narrazione storica vista dal punto di vista di dio in un futuro secondo me ancora lontano ma c'è perché a un certo punto una delle bestie anticristiche è colpita a morte poi si riprende ma è colpita quindi a un certo punto c'è una resistenza da parte dei fedeli a cristo che fermano o almeno rallentano l'azione del male che poi verrà interrotta dalle sette coppe quindi l'altro aspetto straordinario è l'aspetto teandrico dell'apocalisse è vero che c'è un cristo onnipotente un dio assoluto dell'apocalisse che non è in contrasto con il dio misericordioso perché anche l'apocalisse è un aspetto delle misericordie di dio attraverso la giustizia la sapienza la luce la bellezza l'aiuto ai giusti ecco possiamo dire che l'apocalisse è il canto della giustizia di dio il canto di dio che interviene aiutare i giusti a vendicare i suoi matti e salvare i giusti se no verrebbero eliminati tutti dal male non solo fisicamente ma anche contaminati spiritualmente e quindi dobbiamo chiederci perché i perché veri perché giusti di alcuni aspetti che non risolveremo mai ma già meditandoci sopra discutendo ci danno una grande energia spirituale secondo me è un'illuminazione mentale senti giacomo abbiamo detto che uno degli errori in cui si può incorrere quello di usare l'apocalisse come griglia interpretativa dei tempi presenti no però di direi che è quasi inevitabile leggendo il testo insomma individuare se non dei degli eventi dei personaggi almeno insomma in qualche misura lo spirito del nostro anche del nostro tempo diciamo così e allora ti voglio provocare su questo no soprattutto in riferimento ai sette sigilli di cui ci hai già parlato e se volessimo utilizzare ecco questa questa parte dell'apocalisse come diciamo così come strumento per provare a leggere in qualche modo il nostro tempo e lo metto proprio come esercizio puramente intellettuale ecco non vogliamo fare qui scuola di profezia no no a che punto potremmo essere secondo te bene lo stimolo giusto il tuo allora ripetiamo di cercare di evitare l'approccio politici o troppo astratti o ideologici purtroppo oggi faccio un bravissimo inciso volutamente polemico c'è un po il brutto vizio di dare letture ideologiche alle profezie faccio un esempio la profezia di fatima io sono molto affezionato a fatima anche avessi nato il 13 maggio è una profezia molto apocalittica molto vicina all'apocalisse possiamo dire che dopo l'apocalisse è più importante è più apocalittica delle profezie e certamente è più importante di quelle moderne ma anche lì non si può dare un'interpretazione politico ideologica ad esempio l'interpretazione usare la fatima la usò reagan contro l'unione sovietica ma è compressibile da parte del presidente degli stati uniti durante la guerra fredda ma oggi soprattutto chi è sacerdote e guida una radio ascoltata da milioni di fedeli quindi ha una grossa responsabilità avete capito la radio che vi faccio riferimento non si può usare fatima il senso ideologico bisogna leggere infatti esiste un uomo che non si è creato da dio scusa la domanda stupida ma molti cristiani non riflettono molti cristiani pensano che ci siano uomini di serie a e uomini di serie b e fra gli uomini di serie a mettono dei si mettono se stessi in un in un livello di uomini di serie a superiori cioè si credono i veri cristiani perché vanno messa la domenica poi magari non leggono mai vangelo o non pregano mai no al di là che solo dio conosce la fede e la fede non è un merito è un dono nessuno può aver meritato il battesimo vuol credere in gesù cristo al di là di questo siccome tutti gli uomini sono creati da dio non penso che dio sia contento della morte di uomini anche se sono uomini che seguono l'islam o l'induismo o atei no quindi come si fa a usare la profezia come arma ideologica come dire sì quelli sono i nemici cioè san paolo l'ha spiegato non esiste nemico nemico è solo spirituale satana è spirito è vero che c'erano uomini che seguono il male ma non sono nemici ci sono alcuni che si oppongono a cristo noi non abbiamo nemici cristo può avere dei nemici cioè quelle forze che si oppongono lui ma sono soprattutto forze spirituali che possono in certi casi usare strumentalmente in parte alcuni uomini ma non esiste il male assoluto nell'uomo e non è il cristiano non ha nemici il nemico del cristiano è se stesso è la propria parte oscura è la propria parte che cade nel male perché non segue del tutto cristo quindi l'uso ideologico delle profezie veramente vergognoso 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 perché mettersi al posto di dio mettersi al posto l'apocalisse allora a che punto siamo abbiamo detto che i sette sigilli sono per le sette lettere alle sette chiese scusa sono per tutti i tempi e questa è la cosa più importante dell'apocalisse l'insegnamento che cristo da giorno dopo giorno alla chiesa quindi sono per sono per noi le sette lettere e ci danno forza e coraggio speranza con le sette straordinarie promesse che fa cristo ma chi gli rimane fedele combatte spiritualmente col cuore sincero poi i sigilli chiaramente è sotto gli occhi di tutti che la situazione attuale ma già da secoli ma già da secoli la situazione attuale già nel 1500 dicevano già che ha già aperto il quinto sigillo figurati adesso i quattro primi quattro sigilli sono innanzitutto i primi quattro cavalieri non sono tutto male due sono positivi il bianco il nero il luminoso e l'oscuro sono positivi cavaliere luminoso indica cristo stesso cioè l'evangelizzazione no l'annuncio il cavaliere armato di freccia la freccia la parola di dio sono le fiamme del cuore di cristo quindi cavaliere bianco è positivo quindi questo continuerà per tutti i tempi fino a gerusalemme celeste quello scuro e positivo perché ci dice non sprecate olio di no cioè non profanate l'amore la misericordia l'olio la misericordia e la grazia non profanate lino sprecate di sembra adattissimo tempio del tempo d'oggi no e ha in mano una misura gioco cioè la croce la misura il giudizio sulla carità no quello color fuoco e quello pallido certamente sono fasi di purificazioni sono delle prove sono dei castigli a scopo di conversione la maggior parte dei castigli l'uomo se li dà da soli sbagliano quei preti e quei sacerdoti forse anche vescovi o o di più che dicono che dio non può giudicare che dio non giudica dio è dio l'apocalisse ci dimostra che dio è assoluto e fa quello che vuole quindi lui è l'unico che ha il diritto di vita di morte su tutti ha il diritto di castigare come il padre castiga il figlio perché ama il figlio appunto quindi che sia aperto anche il quinto sigillo secondo me non c'è dubbio perché il quinto sigillo non svalutiamo nell'importanza è qualcosa di sconvolgente cioè sono i martiri di tutti i tempi che chiedono di fronte al trono di dio a dio di intervenire a fare giustizia per vendicare il loro sangue se i martiri in cielo chiedono a dio di intervenire come giusto giudice vuol dire che il male sulla terra ha raggiunto un livello esagerato per cui non bastano le preghi e i sacrifici dei fedeli non bastano i sacramenti perché c'è uno squilibrio totale far male ed espiazione arriviamo al sesto sigillo col sesto sigillo come con la sesta tromba c'è una discontinuità c'è un cambio di epoca di epoca no di fase diciamo c'è il kairos e l'aion no secondo me cristianamente l'apocalisse ci insegna che ci sono solo tre aion l'aion dalla risurrezione di cristo in poi l'aion del regno dei mille anni e l'aion della gerusalemme celeste all'interno di questi aion ci sono dei kairos cioè dei momenti forti che non sappiamo quanto durano e quando accadranno ma ci sono e avverranno sicuramente perché ce lo dice dio attraverso giovanni uno è il sesto sigillo che è una fase anche qua di purificazione non può essere interpretato solo allegoricamente altrimenti non si spiega perché al sesto sigillo c'è una paura da parte addirittura dei potenti che si nascondono e questa paura non in tutti ma una parte sicuramente spingerà la conversione c'è un terremoto l'esempio ma c'è anche uno sconvolgimento del cielo un terremoto che avviene su tutta la terra contemporaneamente quale segno della maestà di dio e per battere la superbia degli enti e di malvagio chiarissimo stesso sigillo ma è già adombrato nell'eclisse durante la crocifissione c'è un apocalitticità della stessa crocifissione di cristo c'è un terremoto la crocifissione di cristo c'è un eclisse infatti nel medioevo si dipingeva sempre la croce con il sole impallidito e la luna più scura ecco quindi anche il creato subisce una fase di sconvolgimento di purificazione attraverso queste fasi siccome trombe trombe e sigilli vanno di pari da se andate a vedere l'apocalisse i momenti più decisivi drammatici di scelta fra bene e male l'intervento di dio di ribellione l'uomo avvengono sempre fra la sesta e la settima tromba e scusate fra il sesto e il settimo sigillo e fra la sesta e la settima tromba quello è il momento che secondo me non è ancora aggiunto perché questi fatti non sono ancora accaduti non c'è ancora stato un intervento così straordinario di dio poi quelli potranno essere immagini certo ma qualcosa dovrà accadere non possono essere solo immagini no altrimenti riduciamo appunto tutto l'apocalisse a un fantasy non è un genere fantasy ecco sai che impressione ho giacomo tu hai dato soprattutto in quest'ultima parte del tuo intervento una lettura incardinata su quella che la tua personale esperienza di credente di cristiano e questo certamente aggiunge delle prospettive che sono poi fondate su degli elementi della teologia cristiana ma io sono convinto che sia possibile anche raggiungere una lettura che sia ugualmente convincente anche da una prospettiva puramente sapienziale ma di una sapienza con la s minuscola dico questo perché si capisce benissimo che l'autore della apocalisse ha una profonda dimestichezza con quel deposito e quel patrimonio di conoscenze che potremmo ascrivere a quella che è stata più o meno precisamente definita come sapienza perennis insomma quel deposito sapienziale che accomuna tutte le civiltà tradizionali della terra ecco letta in questa prospettiva l'apocalisse diventa davvero una chiave che ci consente ecco non tanto brutalmente banalmente come a volte si vorrebbe fare di prevedere il futuro ma di ottenere un paradigma interpretativo per la storia umana e questo è il valore secondo me profondamente culturale di questo libro che non ci possiamo permettere di liquidare come un cumulo di fantasie o un groviglio di vertigini mentali o divisioni da squilibrati è qualcosa di molto profondo di molto interessante scritto con un linguaggio che è quello canonico per dire questo tipo di cose e per fare questo tipo di discorsi quindi ecco voglio dire un approccio avvertito non ingenuo a questo libro deve suggerirci una profondissima cautela e vorrei dirlo un profondissimo rispetto per questo testo mi pare che oggi attraverso anche perché scusa si interrompe anche perché tu lo sai meglio di me perché in realtà su molte cose sei molto più colto di me di molti altri in tutte le civiltà c'è una componente epocalittica e profetica ad esempio nell'induismo c'è il signore della ruota c'è l'ultimo avatar nell'islam c'è il madi cioè in tutte le civiltà c'è gli storici parlavano dell'apocatastasi della consumazione del fuoco del passaggio di un altro eone attraverso il fuoco lo stesso eraclito ci parla dice che ogni cosa sarà consumata dal fuoco e corrisponde totalmente a quella lettera di pietra dove lui proprio dice che il fuoco consumerà gli alimenti e passerà la scena di questo mondo quindi gli aspetti ciclici ci sono ci sono nell'apocalisse questo come dici tu culturalmente lo collega anche a quelle proiezioni profetiche politiche che ci sono anche nelle altre culture e nelle tradizioni più antiche esattamente guarda giacomo ti ringrazio perché ci hai guidato grazie a te ma consentimi di dirlo abbiamo solo toccato abbiamo solo sfiorato la punta dell'iceberg naturalmente vada se non abbiamo nessuna pretesa di assolutamente troppo grande il tema il testo troppo grande ecco però ci hai guidato con garbo e in maniera consentimi di dirlo magistrale dentro questo libro difficile e i nostri amici che ci ascoltano avranno di che riflettere sicuramente io invito a tutti andarlo andarlo a rileggere nella traduzione che preferite importante rileggerlo con calma meditandolo anche proprio studiandolo se uno gli piace ma è difficile rimanere indifferenti di fronte a questo testo è difficile davvero rimanere indifferenti davanti all'apocalisse benissimo grazie giacomo grazie a te grazie ringrazio tutti per l'attenzione vi do appuntamento al prossimo episodio del nostro podcast